L'imperatrice Sissi, una vita di passione, tragedia e immortalità. L'infanzia e il matrimonio. Sissi nacque a Monaco di Baviera, in Germania. Era la quarta di dieci figli del duca massimiliano Giuseppe in Baviera e della principessa Ludovica. Sissi era una bambina vivace e indipendente, e amava la natura e l'attività fisica nel 1853. Sissi fu promessa in sposa all'imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria. Francesco Giuseppe era un uomo serio e riservato, e Sissi era una giovane donna romantica e idealista. I due si sposarono il 24 aprile 1854. Il matrimonio di Sissi e Francesco Giuseppe fu inizialmente felice. Sissi diede alla luce tre figli, Sofia, Gisella e Rodolfo. Tuttavia, il matrimonio iniziò presto a deteriorarsi. Francesco Giuseppe era un marito infedele, e Sissi era sempre più infelice della sua vita di corte. La fuga dalla corte Sissi iniziò a cercare rifugio nella natura e nell'esercizio fisico. Sissi era anche una grande appassionata di viaggi, e visitò molti paesi del mondo, tra cui l'Egitto, l'Italia e l'Inghilterra. La morte di Rodolfo Nel 1889, Sissi subì una tragedia personale devastante. Suo figlio Rodolfo morì suicida a Meierling, in Austria, insieme alla sua amante, la baronessa Maria Vetzera. La morte di Rodolfo fu un colpo durissimo per Sissi, e lei cade in una profonda depressione. L'assassinio Nel 1898, Sissi fu assassinata a Ginevra, in Svizzera, da un anarchico italiano di nome Luigi Lucchini. Lucchini la colpì al cuore con un punteruolo, e Sissi morì poche ore dopo. L'eredità di Sissi Sissi è una figura affascinante e controversa. Era una donna forte e indipendente, ma era anche fragile e vulnerabile. La sua vita è stata assegnata da tragedie personali, ma è anche stata una storia di passione, amore e immortalità. Sissi è un'icona culturale ancora oggi. È stata oggetto di innumerevoli libri, film e opere teatrali. La sua storia continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. La sua storia continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo.